diego maranghi e leonardo piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo al manacco di bellezza 4 giugno leonardo piccinini piero maranghi anche durante l'incoronazione di carlo terzo l'attuale re d'inghilterra è stato eseguito zador the priest inno composto nel 1727 dal grande georg friedrich kendall il compositore tedesco ricordiamolo che gli inglesi sono però accaparrati perché perché era stato composto per l'incoronazione di giorgio secondo che è il nonno il nonno del protagonista di oggi e cioè giorgio terzo che nasce oggi a londra e non è scontato il 4 giugno appunto del 1738 perché non è scontato perché al momento della sua incoronazione che sarebbe avvenuta nel 1760 quando lui aveva solo 22 anni il padre era premorto al nonno quindi lui diventa re dopo la morte di giorgio secondo esattamente pronuncia una frase che potrebbe sembrare ovvia cioè nato e cresciuto in questo paese mi onoro di essere un britannico infatti lui è il primo sovrano della casata degli annover arrivano sul trono dopo la morte dell'ultima steward anna è il primo degli annover a essere nato in inghilterra e a parlare l'inglese come prima lingua perché il padre era federico di annover certo erano deutschland certo anche il nonno senti sovrano molto molto longevo è primo tra i maschietti ed è terzo in assoluto dopo le due regine se elisabetta seconda e vittoria naturalmente ed è il protagonista di una stagione molto felice per l'inghilterra l'età georgiana in cui sostanzialmente si ridisegna tutta l'architettura delle città degli edifici pubblici quando vedete quegli edifici tutti neoclassi quelli sono stati fatti sotto giorgio terzo non li ha fatti palladio non li ha fatti palladio quando vedete gli interni di robert adam immobilio di thomas chippendale tutta la sofisticata passione per l'artigianato per il mobilio per la decorazione non è stato maggiolini è stato sotto giorgio terzo è stato sotto giorgio terzo che l'era un po bat ma che ha firmato un periodo veramente importantissimo perché è anche il periodo è in cui l'inghilterra vede gli albori della prima rivoluzione industriale è il periodo in cui l'inghilterra perde le colonie americane però infligge la batosta a napoleone e il periodo tra l'altro in cui l'inghilterra diventa definitivamente la più grande potenza marittima primato che terrà ben oltre la prima guerra mondiale quindi sto giorgio terzo in fondo aveva questa misteriosa malattia neurologica che l'avrebbe attanagliato per tutta la vita fino a portarlo a una vera e propria pazzia c'era già stato un caso presso gli odiatissimi cugini d'oltremanica i francesi carlo il folle o charles lefou lefou carlo sesto valois erè di francia tra la fine del trecento e l'inizio del quattrocento che aveva delle follie assolute tipo pensava di essere di vetro pensava di essere di vetro oppure non si cambiava i vestiti per mesi per paura di essere pugnalato che poi non si capisce perché viveva con l'armatura si è quasi l'odore che sentiamo noi qua col varano e il babi russa e ricordiamolo però nonostante le numerosissime crisi lui non viene mai messo in discussione o minacciato di destituzione il suo è anche un periodo significativo perché è il periodo in cui in risposta allo strapotere che era stato capace di accapararsi presso il parlamento il parlamento diventa qualcosa di davvero molto importante c'era stata anche l'esperienza di cromwell e non si può dimenticare prima appunto di giorgio senti hai detto hannover perché sono over figlio di due tedeschi era figlio di federico di hannover e di augusta di sax gota nata a gota quindi nord della germania cresce lontano dal nonno giorgio secondo possiamo dedicare questa puntata a nonno giorgio ci sono così tanti giorgi viva tutti giorgi viva nonno giorgio e viva le sue splendide nipoti giacinta e amaglia ecco anche questi sono nomi molto da sax gota da sax gota va bene perché non vive col nonno perché non vive col nonno perché i rapporti sono pessimi tra genitori e nonni e quindi viene affidato a un tutore scozzese lord butte lord butte che avrà un ruolo fondamentale che forse amava la madre che forse amava la madre quindi insomma questo aiutava l'entente e riceve una rigida educazione anglicana a otto anni scrive parla perfettamente inglese e tedesco accompagnata dalle frequenti lettere del padre che contengono indicazioni consigli pratici il padre siccome aveva capito che non avrebbe mai fatto re no vai avanti tu allora istruisce il figlio non andare in guerra tieni bassi i tassi di interesse che sei genetiel no si consigliava con tremonti e proprio forse sapeva di non di non durare molto tant'è che il padre muore nel 1751 quando il nostro aveva 13 anni e il nonno giorgio secondo nel 1760 quindi lui diventa re giovanissimo il primo problema che deve affrontare la scelta della consorte lui sembra che abbia avuto una vera passione per una quacchera le voci dicono che gli abbia dato dei figli e poi si innamora di una donna bellissima Sara Lennox che era di una famiglia che discendeva da re carlo secondo d'inghilterra che però non andava bene non andava troppo bene avevano ancora parola dei cattolici gli trovano una moglie che corrisponda agli interessi di stato in questo caso la 17enne duchessa sofia carlotta di mecklenburg o strelitz siamo nel nord 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 a di berlino il mecklenburgo siamo sempre con i tedeschi sempre con i tedeschi e lui la sposa la incontra pensa poche ore prima del matrimonio un incontro piuttosto sfavorevole anche se poi scoppierà l'amore il matrimonio politico combinato per tutelare le esigenze della corona in realtà si rivela una relazione felice entrambi sono appassionati di musica e sono pensate genitori di ben 15 figli di cui una squadra di calcio una squadra di calcio con le riserve anche di cui nove maschi e sei femmine allora di questi nove maschi due saranno re d'inghilterra e uno sarà re di anhofer e una figlia addirittura diventerà regina dove è un vivaio veramente formidabile ma incredibile sposerà il re del wuttenberg quindi dove pieno va spesso io vado spesso perché ci si mangiano scartelozzi panna e speck è un piatto che mi piace molto che mangiava anche walter schackner quando giocava al cesena ecco qui cesena manca niente mangio scartelozzi spanna e speck la regina carlotta il nostro nostro amerigo sta ridendo molto il segreto del nostro successo è questo è quando amerigo ride quando amerigo ride fa anche l'uovo è il nostro primo spettatore sì no ma sappiamo che si mangia la sera perché fa l'uovo lui ride fa un uovo però entra subito il varano vedi senti la regina carlotta una lontana discendente di alfonso terzo re del portogallo quello che voleva ballare la samba e forse questo va sottolineato di una sua amante africana tant'è che la regina viene descritta come la prima monarca nera o comunque con tratti mulatti la prima regina di colore tema che oggi ha molto successo ovviamente soprattutto per camilla parker balls no quella non è anche lei africana me l'ha detto carlo mi ha detto carlo che quando è nuda è africana lui no lui no senti lui è un uomo voli lui è un uomo volitivo e caparbio educato dalla madre alla gestione del potere della dignità regale e come ho detto prima lui si sarebbe assicurato il controllo del governo tendeva a disfarsi delle interferenze del glorioso pitti il vecchio il vecchio che era lì probabilmente dai tempi dei plantagenetti da qualche secolo il primo ministro troppo prestigioso e riesce a eliminare dalle principali cariche di governo ciò che ancora restava della gloriosa rivoluzione cioè c'erano ancora i seguaci diciamo i nostalgici wigg di cromwell i wigg di cromwell che erano sostanzialmente a favore di un'introduzione della repubblica lui avrebbe poi era un uomo spregiudicato avrebbe corrotto vari deputati e si sarebbe assicurato una solida maggioranza in parlamento e nell'elettorato tant'è che 1762 grazie a una diffusa rete di suoi fedelissimi cosiddetti amici del re ha in pugno tutte le leve del paese un potere che viene esercitato attraverso ministri a lui i devoti come appunto il fedelissimo di cui abbiamo parlato prima lord bute un frammento di un film di 30 anni fa 1994 la pazzia di re georgio dalla commedia di alan bennett con una grandissima alan mirren e un altrettanto grande nigel hotorn che tra l'altro nell'edizione italiana è doppiato da giancarlo giannini e tra l'altro c'è una curiosità sulla pazzia di re georgio incredibile ma vero che il georgio terzo il terzo fu tolto dal titolo per non far credere che fosse il terzo episodio di una serie senti il maggior inciampo del suo regno l'abbiamo detto è l'insurrezione nelle colonie americane schiacciate da pesantissime tasse si vede che non aveva troppo ascoltato i consigli del padre che gli mandava le letterine e anche lì lui non comprende quanto questa cosa fosse irreversibile e cerca di schiacciare tutto con la forza no taxation without representation esattamente e la secessione delle 13 colonie che viene sancita col trattato di parigi segna il suo declino e determina anche una svolta storica nella vicenda costituzionale britannica perché si afferma il principio dell'autonomia del gabinetto e del cabinet e soprattutto del prime minister minister subisce diversi attentati nella vita ma riguadagna però la simpatia popolare perché è dai ai irlandesi bravo perché è molto intransigente con gli irlandesi e con i diritti dei cattolici stiamo parlando di massacri che si compiono sotto il suo regno nei confronti dell'irlanda una sorta di ecco quando si parla a sproposito di genocidio a volte questo è un genocidio che si è compiuto ai danni dell'irlanda ci sono stati film anche molto belli però è poco sentita è poco nota ma come sempre quelli che vincono poi non impediscono la narrazione quando parliamo sempre dei turchi con gli armeni ogni tanto bisogna parlare anche degli inglesi con gli irlandesi vero bravo leonardo che bravo che l'hai fatto bravo e adesso sono affari tuoi eh ho visto qua fuori james bond che lo fredderà con il silenziatore c'è l'MI6 va bene senti e poi lui guadagna popolarità perché è il re che alla fine riesce a sconfiggere l'orco francese napoleone la battaglia di trafalgar e eh da lì lo sappiamo l'Inghilterra sarebbe stata dominatrice in lungo e in largo dei mari fino alla prima guerra mondiale e anche un pochino dopo lui si spegne il 29 gennaio del 1820 da nove anni già non regnava più nel senso che c'era la reggenza Regency eh è fidata al figlio che sarà poi Giorgio IV e appunto a causa di questa malattia questa pazzia che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita eh una sindrome maniacale fatta di depressione di allucinazioni di convulsioni la cosiddetta porfiria una malattia ereditaria del sangue o forse l'avvelenamento da piombo perché ci mantenevano dentro nelle pentole di piombo cucinavano i crauti stai attento ma io non mi succede niente io mangio il piombo direttamente ha capito fuso mi piace molto operazione c'è anche un'ipotesi di un'intossicazione perché nei suoi capelli recentemente è stato trovato dell'arsenico perché è ancora vivo no però eh adesso stanno cercando se ci sono anche i merletti sì hai capito va bene noi abbiamo un ultimo contributo I started sir but I was interrupted Say after me Our father Which art in heaven Hallowed be thy name Hallowed be thy name Thy kingdom Thy kingdom come Thy will be done On earth On earth On earth On earth On earth On earth Il 30 giugno si riunisce l'assemblea costituente Se cadrà anche Gianicolo ci rimangono tre possibilità Capitolare Difendere la città di barricata in barricata Uscire da Roma con l'esercito Con l'assemblea Con il governo E portare altrove il simbolo e la forza della Repubblica Leonardo il secondo tema odierno anche qui parla non di una reggenza ma di una luogotenenza Esatto c'è un Però è de casa nostra e devo dire è un periodo terribile Ma come tutti i periodi terribili nascono grandi istanze Perché oggi noi nella seconda parte dell'Almanaco parliamo del partito d'azione Non quello fondato Quale partito d'azione? Quello fondato da Mazzini Tu c'è anche azione adesso No Scherza con i fanti ma lascia stare i santi Nel 1853 è Mazzini a fondare il partito d'azione Che poi viene ripristinato come nome dai suoi eredi quasi un secolo dopo Perché noi stiamo parlando del 4 giugno 1942 Siamo a casa di un avvocato repubblicano Federico Comandini C'è una riunione segreta a cui partecipano tra gli altri un gigante assoluto della nostra storia Un uomo che bisogna ricordare molto più spesso L'immenso Ugo Lamalfa Con Mario Vinci Guerra Edoardo Volterra Alberto Damiani Qual è lo scopo di questa riunione? Fondare un partito appunto Che sorge dalla confluenza di movimenti antifascisti Liberal, socialisti e repubblicani Con il gruppo Giustizia e Libertà Che era stato fondato a Parigi nel 1929 Da Carlo Rosselli e Emilio Lusso dopo quella incredibile Racambolesca fuga dal confino sull'isola di Lipari Tutto questo per combattere il fascismo Superando l'antitesi tra liberalismo e socialismo Ci sarebbero poi riusciti Questo lo racconteremo nel corso della puntata Purtroppo no Non dirlo subito Dura minga Però sai che hai sempre quella eco del partito d'azione Cioè che è un episodio straordinario della nostra storia politica E forse per questo non sopravvive Perché la guerra fredda Noi ci meritiamo sempre altro La guerra fredda ha creato i due grandi partiti di massa Cavur muore Il vaso di Fococcio tra due vasi Quello è Don Abbondio Cavur muore De Gasperi muore Partito d'azione non sopravvive De Gasperi però era diciamo Era un nemico Ma va bene Lui faceva i suoi interessi Allora sentite i punti fondativi Fondazione di una repubblica Non male Parlamentare Cioè non aspettiamo nessun compromesso con questi mostri Il decentramento amministrativo regionale Nazionalizzazione dei complessi industriali La riforma agraria La libertà sindacale La laicità dello Stato La federazione europea tra liberi stati democratici Eh mica male Allora c'era un problema Che bisognava conciliare due anime contrapposte dentro questo partito Cioè quella più socialista Che fa capo a Emilio Lussu E quella liberale Che fa capo a Ugo Lamalfa E altri Sì Dunque allora il partito d'azione in questo momento regge come se regge Anzi ha un notevole successo Perché siamo in una situazione di regime da sconfiggere Da abbattere Di guerra E quindi tutti insieme per il momento Il nemico del mio nemico è mio amico Sì In occasione del convegno semiclandestino Che si tiene a Firenze Poco tempo dopo 5 settembre 1943 Il Giellino Giustizia e Libertà Ferruccio Parri Sostiene la necessità di organizzare una lotta popolare Armata Contro le divisioni tedesche Che stanno calando Seve Pioguerita Attraverso il confine Del Brennero Ecco che Parri In questo disegno Si riallaccia All'esercito di popolo Della tradizione Dei volontari Mazziniani Cioè di quel partito d'azione Che già Era esistito Tra 1853 E il 1867 Parri era Ricordiamolo Un militare Pluridecorato Della prima guerra mondiale E quindi viene messo Al comando Dei gruppi partigiani Che erano attivi Nei territori Della Repubblica Sociale Italiana Ovviamente Sotto l'invasione tedesca Perché Perché viene scelto Parri Bravo A favore della scelta Del nome di Parri Valgono Una capacità Di mediazione Tra le varie componenti Appunto Politiche del movimento Le sue idee Non estremistiche E quindi Non invise Agli americani E agli inglesi Un fatto significativo Sempre nello stesso periodo È che Nel centro-sud Dove Parte dei territori italiani Erano già stati Occupati Erano sotto il controllo Delle forze anglo-americane Viene scelto Lo storico giornalista Riccardo Bauer Altro azionista Che dopo La liberazione di Roma Andrà a far parte Del comitato centrale Di liberazione nazionale E del più ristretto Comitato militare Quello dove c'erano Anche tra gli altri Luigi Longo E Sandro Pertini Congresso di Bari Forze antifasciste Va in scena Il 28 e 29 gennaio Del 1944 Ecco In questo congresso La rappresentanza Del partito d'azione È la più numerosa E viene dato mandato A Carlo Sforza E a Benedetto Croce Di instaurare Una trattativa Con la Casa Reale italiana In cambio Di un sostegno Al governo Badoglio La cosa incredibile I poeti Non potevano saperlo È che c'è la richiesta Di abdicazione Ma non a favore Di Umberto Ma di un bambino Così carino Biondo Così carino Biondo Adesso Parice sepulti Parliamo di Vittorio Emanuele III Che riceve la richiesta Di abdicare A favore Di Vittorio Emanuele Bambino Che per fortuna Non è stato quarto Che aveva solo sette anni Con la reggenza Appunto di Badoglio E la formazione Di un nuovo governo Interpartitico Il re dice No Il re rifiuta E viene scelta Una soluzione Di compromesso A riprova Di quanto Fosse mio Per sciaboletta Perché non rendersi conto Di quale tragedia Aveva contribuito A creare Mi sembra veramente Un fatto gravissimo Lui sostanzialmente Su istigazione Sul consiglio Di Enrico De Nicola Che era monarchico Suggerisce De Nicola Al re Di nominare Il luogotenente Del regno Umberto E si apre La domanda Chi ci sta? Tra le tante tragedie Delle fosse ardeatine Della grande tragedia Delle fosse ardeatine 24 marzo 1944 Occorre ricordare Che in quell'occasione Sono 57 i membri Del partito A perdere la vita E si arriva A quell'aprile Del 44 A Salerno E' ritornato Ercole Ercole Il compagno Ercoli Dalla Russia Dall'Unione Sovietica Togliatti Che a sorpresa Dice sì Lui dice Facciamo il governo Facciamolo con re Senza re Facciamolo e basta Pur di farlo Pur di farlo E il partito D'azione Ha una posizione Molto critica Tant'è che partecipa Al governo Ma non indica Ufficialmente I nominativi Della sua delegazione Cioè Lui vuole rendere Evidente La contrarietà Liberazione di Roma Il primo di giugno Del 44 Viene costituita Una nuova Coalizione Che vedrà A capo del governo Ivanoe Bonomi Ex socialista Partito liberale Una vecchia conoscenza Della politica italiana E Il partito d'azione In quel caso Si impegnerà apertamente Ma incominceranno A affiorare Le divergenze interne Che riprenderanno Molta forza Anche nel famoso Congresso Di Cosento Che arriva Nell'agosto Del 44 Se non sbaglio Non è E il riconoscimento Del ruolo Istituzionale Della monarchia Da parte Di Bonomi In questa complicatissima Fase di transizione Porta Alla caduta Del governo E all'uscita Del partito d'azione Dalla coalizione Del governo Però Passa un anno E meno di un anno E il partito d'azione Riesce a ottenere La guida Sì La guida Del governo Perché è il primo Governo Post liberazione E in quel momento C'è bisogno Di una figura Che raccolga L'eredità morale E politica Della resistenza E segna appunto Il passaggio Di regime Il passaggio Di sistema Quindi Il vecchio mondo Di Badoglio Non andava più bene E quindi Si trova Ferruccio Parri E questo Il primo governo Direttamente ispirato Dai movimenti Della resistenza E guidato Da un partigiano Che riesce A raccogliere Nuovamente La partecipazione Di tutti I partiti Del CLN Il programma È un programma Davvero ambizioso Pensate Tra le altre cose Oltre alla difesa Della sovranità Dello Stato C'è Sostanzialmente Una presa Di Distanza Una pretesa Di indipendenza Rispetto A quelli Che si stanno Già delineando Come i nuovi blocchi E già questo Da solo Fa capire Perché l'ha fatto Quella fine Il vasto programma Poi c'era anche In economia Una certa intransigenza Ad esempio I naudi Non era Di quell'avviso No E poi Ricordiamolo Loro dichiarano Immediatamente La necessità Di superare La monarchia Con una proclamazione Della repubblica C'è L'antifascismo Radicale Tra i punti Altro che amnistia Togliatti E' un'altra storia La giustizia sociale La laicità dello Stato La riforma agraria Tutte cose Che poi sarebbero arrivate Ma con altri tempi Altri modi Con calma E' un progetto Che nelle intenzioni Di pari Deve cominciare La ricostruzione Materiale E morale Della nazione E' un governo Che dura pochissimo Pochissimo E' il canto del cigno E ricordiamolo Parliamo di Un Un partito Che durante Gli anni Della guerra partigiana Contava Sostanzialmente Il 25% Delle forze partigiane Stesse Ha avuto un ruolo fondamentale Cioè questo non si ricorda Mai abbastanza Ogni tre partigiani Comunisti Ce n'era uno Che era del partito D'azione Cosa accade A dicembre Da giugno a dicembre Sì Il governo pari cade Perché sono i liberali A togliergli La gamba Le lotte Fratricidi E a febbraio Le divergenze Insanabili Tra le diverse Anime Cioè quella socialista Che era numericamente preponderante E quella Diciamo Che faceva capo All'amalfa E a altri Grandi personaggi Quella liberale Minoritaria Raggiungono Il culmine Certo E ci sono Un'infinità di emozioni Che si accavallano Esplode tutto Parli Non riesce a mediare E quindi Il partito Si spacca Parli E la malfa Daranno vita Alla concentrazione Democratica Repubblicana Che si presenta Alle famose elezioni Dell'Assemblea Costituente Del 2 giugno Del 46 Pensate che ottengono Un risultato Veramente Misero Niente Lo 0,42% Dei voti Siamo già di fronte Al momento In cui Democrazia Cristiana E Partito Comunista Polarizzano Polarizzano tutto Avranno solo due eletti La malfa E parli Meno male Che almeno Questi due giganti Sono entrati Nell'Assemblea Costituente Ciò che resta Del partito d'azione Ottiene solo Anche qui Numeri risibili L'1,5% Dei voti E solo 7 eletti Ovviamente Stiamo parlando Di un risultato elettorale Direi Catastrofico In rapporto A quello Che solo Pochi mesi prima Era stato Il ruolo fondamentale Del partito d'azione E Pensate A testimonianza Di questo Di quanto Appunto Fosse cambiato Così velocemente Lo scenario Il partito d'azione Aveva 267 mila Tesserati Credo Quelli del PC Erano già diventati 1 milione E 770 mila Evidentemente I rapporti Sarebbero cambiati Ancora di più Poi Con le incertezze Di Nenni Che avrebbe portato Il partito comunista A diventare Così preponderante A cambiare così tanto La storia del nostro paese E Come dire A creare uno di quei Tanti ritardi Della nostra Vicenda politica E nazionale Quindi possiamo dire Che è stato un esperimento Bellissimo Purtroppo Forse anche Non so Per certi versi Velleitario Rispetto all'atmosfera Che nasceva Della guerra fredda Comunque Certamente Un esperimento Di intellettuali Al potere Che è durato Pochissimo E poi Diciamo Per quella che è stata La storia Non soltanto Del nostro paese Forse erano quelli Che ci avevano ragione Diciamo Sì Sì Senti Leonardo Due piccole note I membri del CDR La Malfa e Pari Confluiranno Nel partito repubblicano E poi sappiamo Che la Malfa Ne diventerà leader E invece Il 31 marzo Del 1947 Al teatro Valle di Roma Si tiene L'ultimo atto Del partito d'azione I cui Membri rimanenti Confluiscono Nel partito socialista E si chiude quindi Questa vicenda Della nostra storia Della resistenza Italiana Il fatto di Entrare all'assemblea Costituente E di far parte Di un'assemblea In cui Sedevano Grandi uomini E uomini I quali avevano Un particolare Prestigio Su noi giovani Togliatti Nenni Orlando Nitti Benedetto Croce Benedetto Croce Era un personaggio Eccezionale Per la cultura italiana Io ricordo Per me Conoscere benedetto Furo Ci fu Un fatto Grossissimo Quindi avevamo Tutti questo senso Di entrare In un luogo Estremamente Importante Alle nostre spalle Fatti coraggio Fatti coraggio che scappiamo Perché se no Arriva il Varano Fa anche rima No Quasi Varanno Aspetta Fatti coraggio che scappiamo Perché se no Arriva il Varano Va bene così Senti Leonardo E ti No È 4 giugno 1944 Io c'ho sempre l'acqua di Cologna Di Bempora L'abbiamo appena detto Perché nell'almanacco C'è tutto Si prova tutto C'è anche delle ricette Volendo Ci sono le ricette E se non le trovate Potete chiedere a Piero Che ne ha Lui ha un libretto Tutto scritto a mano Ce n'è che ce n'è Sì Ce n'è Ecco 4 giugno 1944 La liberazione di Roma È una data meravigliosa È una data storica Ecco interessante Come giustamente Sottolinea l'almanacco Il 4 Che è un po' come il Corano Il 4 giugno 1944 Roma è la prima capitale Dell'Occidente A venire liberato Dai nazisti Parigi lo sarà Il 25 agosto Bruxelles Il 3 settembre Amsterdam dovrà attendere Il 5 maggio Del 1945 Vienna raggiunta Dai russi Il 13 aprile Vienna liberata Non so da cosa Degli austriaci Il terzo uovo E qui c'è appunto La famosa frase L'orologio a cucù Va bene Che Prezioso Questo è un libro Davvero prezioso Sì Non ne parliamo mai No Non diciamo mai Di acquistarlo Mai 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 Va bene Ci vediamo Ci sono dei telespettatori Dell'almanacco Che non hanno acquistato L'almanacco Purtroppo sì Perché Se no saremmo Saremmo ricchissimi Saremmo ricchissimi Ecco questo potrebbe essere L'obiettivo Il claim L'obiettivo sai I piani quinquennali Quinquennali Dell'almanacco Va bene Allora noi Vi salutiamo Come sempre Un momento doloroso Quello del congedo Vi saluta anche Amerigo Che sta facendo ciao Dietro la telecamera Ciao Lui fa ciao Anche un cartello Sì Lui ha i cartelli Quelli pubblicità Sì no no Tira su dei cartelli C'è scritto Leonardo cambia le mutande Piero i calzini Sì Ci ha delle indicazioni Così E chi cambia canale È un po' drecca È un po' drecca Va bene Ci vediamo domani Almanacco di bellezza A cura di Piero Maranghi E Leonardo Piccinini Con Lucia Simioni Stefano Puppini Jacopo Milardotti Paolo Faroni Riccardo Cassani Greta Torresi Samantha Chiodini Realizzato da Amerigo Daveri Valentino Puppini Luigi Consolandi Stefania Margheritti Alessandro Puppini Prodotto da Piero Maranghi Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione Con Intesa San Paolo